del coro di voci bianche, la foiarola di Poggio Terza Armata. Il coro opera dal 1997 all'interno della scuola di musica del circolo culturale di Straussina. Nato come gruppo strumentale didattico, il gruppo si caratterizza per la ricerca di repertori che possono coinvolgere strumenti e altri linguaggi, teatro, danza o immagini. Il lavoro dei responsabili si è sempre orientato verso la creazione di un contesto educativo globale dove i cantori possono trovare un ambiente stimolante e formativo, ma soprattutto accogliente e ricco di relazioni. Il coro ha partecipato a diversi concerti e rassegne anche all'estero, Austria, Slovenia, Repubblica Certa, e i progetti poliporali, significativi percorsi formativi proposti sia esterni al coro, sia proposti dal coro stesso. Quindi applaudiamo la foiarola di Poggio Terza Armata. Il coro è diretto dalla signora Lucia Vinzi ed è accompagnato al pianoforte da Caterina Croce. La poesia non è nessuna lingua che conosco, prende solo in prestito le parole della lingua che conosciamo, ma è una lingua di sussulti, trasalimenti, gioie e spaventi, bisbigli e silenzi. Di Andrea Venturini, su testo di Giovanni Pascoli, Pallata, di Glenda Braida e Mietta Prez, su testo di Pierluigi Cappello, Neve. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Tutti insieme in un'orchestra, è l'orchestra silenziosa, è il silenzio della neve, e scendendo piano in sposa, il tuo sguardo acceso è niente. Tutto pace si fa a notte, vedo il manto dei riccari. Fantasie sono tradotte nel tuo sogno memorato. Sguardo di fiume se piango rugiada, sguardo di brina se perdo la strada, sguardo di olivo se cerco o di faggio, sguardo di quercia se trovo il coraggio, sguardo d'arancia se sogno o di muore, sguardo di mela se tocco l'amore, sguardo di luce se canto o di fuoco, sguardo di sole che illumina il gioco. Sguardi di chi gioca e cambia lo sguardo sul mondo di Bruno Coulet con Ferre Piedri, di Marina Gavelli il mago, di Greg Gilpin Whisper. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.